Ciao a tutti ragazzi e bentorni sul canale, come va? Spero che state bene e che stiate trascorrendo una splendida giornata. Ho deciso di fare questo video dopo la sconfitta del Torino per 2-1 contro il Cagliari perché è stata una partita che ha messo in luce molti lati positivi del Torino ma anche molti lati negativi. Prima per tenere la noccia a questioni mi raccomando lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, ti vado a cambiare le notifiche per esempio aggiornate sui news del canale in modo da ricevere quella famosissima notifichina. Poi basta cliccare sulla notifica appunto e verrete riportati al video che vado a pubblicare in quel determinato momento. Ma veniamo a noi. In primis grandissima partita del Cagliari perché il Torino si è schiantato contro una squadra quadrata che sta trovando la giusta quadra, la squadra è il gioco di parole e soprattutto una linea difensiva composta con il Daniga, Lovato e Altare veramente eccezionale. Ovviamente io posso di Altare per fisico Carboni però comunque Altare si è comportato molto bene, un giocatore che si sta comunque comportando iscrivamente bene in questa stagione. Ma veniamo al Torino. I grossi limiti sono stati di Juric perché in tutta la partita si è notato insomma come il famosissimo piano B del quale vi parlavo di Juric fondamentalmente non esiste perché appena il Torino ha subito il secondo gol vai, è andato veramente di irrazionità totale. E questo me lo fanno capire un po' di mosse. In primis il debutto è una partita così importante che stai perdendo Di Sec e Ricci. Così, cioè tu già dici ok Ricci deve imparare a giocare un centrocampo a due, questa roba è qui, però così, li butti dentro, vai alla Carlona. Seconda cosa, dici Belotti e Sanabri non possono giocare insieme e cosa fai? Tu non provi la soluzione, bensì vai, proprio istintività totale. E fondamentalmente si è notato anche come il problema del Torino sia mentale e anche ha notato la poca lungimiranza di Juric. Per cui veramente io lo amo come tecnico ma devo fortemente criticarlo. Una bassa lungimiranza di Juric. Il Cagliari mette Pavoletti. Il gioco era semplice, io ti metto un puntero davanti che mi fa sportellate e che mi va a sporcare i palloni. Qui mi ricollego un attimino, per far capire il discorso, al derby. Dove la difesa del Torino, soprattutto Bremer, non ha fatto vedere palla a Vlaovic. Allora, se tu vedi che il Cagliari mette entro Pavoletti per fargli fare quel tipo di gioco, non te ne deve fregare niente se si chiami Vlaovic, Suarez, Lewandowski, Holland, oppure Pavoletti, Falcinelli o non lo so, o Moncini. Se il gioco è quello, tu devi prendere un difensore e metterglielo a uomo. E non li devi far toccare il pallone perché così tu limiti delle potenze del Cagliari. Perché nessuna squadra va sottovalutata. E qui il Torino ha peccato di sottovalutazione perché il non far vedere palla a Vlaovic, tutti i casati, non ha fatto vedere palla a Vlaovic. Vero? Ma poi hai permesso di fare quella sponda di petto a Pavoletti. È follia pura. Perché in questo modo tu in due partite fai un punto. E cosa ti rimane? Che tu hai perso cinque punti. Hai perso cinque punti. Quindi in questo modo hai vanificato il pareggio con la Juve. Perché se anche tu perdevi con la Juve, al di là che fosse il derby, ma vincevi contro il Cagliari, erano tre punti, non uno. Invece, Juic poco lungimirante, forse ha sottovalutato l'avversario e ha fatto marcatura a zona su Pavoletti. Che al di là che non sia, ripeto, Lewandowski, Benzema, ma il ruolo suo lo sa fare. Cioè se tu metti un puntero davanti che ti stoppa il pallone a smista, c'è chi ci vuole tanto? No. Ha messo marcatura a zona, tranquillo, Pavoletti ha stop di petto, e De Iola poi ha fatto anche un bel gol. Seconda cosa, anzi, ennesima cosa che ho notato alla partita, sono le ali. Le ali nel gioco moderno devono fare entrambe le fasi, ma non basta che corrano. Devono anche essere utili in zona gol, o devono comunque farsi vedere in area. Abbiamo, come io personalmente ho negli occhi, il 3-5-2 di Conte alla Juventus, il 3-5-2 di Inzaghi alla Lazio e poi all'Inter, ma se noi lo analizziamo, Conte alla Juve aveva Pepe, aveva Lichsteiner, Simone Inzaghi all'Inter, a Persic, ad Arnian, ad Umfries, alla Lazio aveva Marusic, aveva Lazzari, tutti i giocatori di corsa, ma che comunque in area, si buttano. E nel Torino, l'unico che si butta in area, è Singo, che è quello, tecnicamente, peggiore di tutti. Eppure, i suoi 1-2 golletti a stagione, 3 golletti, se li fa sempre. Ma avere delle ali, che fanno su e giù, su e giù, però che poi non forniscono soluzioni in fase conclusione, è inutile, è proprio l'inutilità fatala. In questo modo, tu togli istruzioni offensive, perché tu ti appoggi soltanto sugli attaccanti, ma se gli attaccanti non girano, se i trequartisti sono ben schermati, dai difensori avversari, o dalle mezzarie avversarie, cosa fai? Non le sbocchi, ti blocchi, allora è l'ala che deve rompere. Quante volte si è parlato del cross quinto-quinto? Quindi io eliminerei tutti i profili, ovviamente a questa cosa ci ho pensato adesso, ma eliminerei tutti i profili stile Lucas Piton, Olainan, Saldi, forse guardate anche lo stesso Voivoda. Li eliminerei tutti e prenderei delle ali che in area si buttino, perché anche Voivoda fa su e giù, ma fondamentalmente, lui è nato come quarto di difesa, non come quinto di centrocampo. E ci vogliono esterni che si buttino in area. Vedete anche Bellanova, che si è buttato. Hanno fatto su Dazoni il paragone con Maggio, ma vedete anche Maggio. Oppure in quel Napoli, Vieradossena. Le ali nel calcio moderno devono occupare gli spazi in area, devono stringere, devono andare sul secondo palo. Se non fanno un movimento, sono utili come una ciliegia su un pezzo di gorgonzola. Vale a dire niente. La ciliegia su gorgonzola ti rovina il sapore di gorgonzola, o della ciliegia, a seconda di cosa piace di più. Un'ala che non si inserisce è inutile, ti rovina il gioco. quindi il Torino per l'ennesima volta ha queste mancanze, sta perdendo forze in campionato, non sfrutta i momenti, soprattutto ha giocato in casa. Ragazzi, questa è brutta come sconfitta, brutta. in parte immeritata, perché il Torino ha giocato veramente bene, si è trovato anche davanti un supercragno. Però ragazzi, se hai difficoltà a livello offensivo, anche se hai prodotto abbastanza al Torino, devi avere delle soluzioni, le soluzioni sono la qualità, la qualità deve giocare. Lukic, a mio avviso, oggi ha fatto veramente pochissimo. Sotto i commenti di un altro video mi avete detto che comunque Lukic sta giocando anche bene. Sì, ma Lukic in un Torino che deve puntare magari ad alti livelli, può fare la riserva, ma ci vuole qualità. Tu un po' bello che se ne va, devi mettere altra qualità, non puoi dire vabbè Maricci, di qua e di là, devi imparare. Ragazzi, la qualità deve andare, cioè non facciamo il discorso che fa, ahimè, il cugino Allegri, ahimè, nel senso che ogni volta salta fuori questa cacchio di paragone tra il Torino, però che calma calma e si aspetta sempre a mettere la qualità in campo. Poi la metti e vinci. Allora, un Ricci che è stato preso per giocare al titolare, perché l'hai preso? Cioè, perché l'hai preso? Con un Lukic che sì, va bene, buon giocatore, ma non ti sposta gli equilibri, non ti risposta. Ti compensa Pobega, ma anche Ricci può farlo, semplicemente Ricci è un po' più, cioè, ovviamente è un po' più difensivo di Pobega, ma c'è un buon piede. Lukic sa fare un po' di cose, ma così, vabbè, faccio il mio, faccio il mio compitino, mi inserisco poco, anzi, contando che Lukic è anche inutile l'inserimento, perché a cui ho detto sì, ha l'inserimento dove, poche volte, cioè, se tu non ti inserisci, devi avere un piede educatissimo che ce la ricci, allora, perché fare questi discorsi impapocchiati, artefatti, si abbia il coraggio, semplicemente su Ricci, punta su Ricci, punto. E qui, anche i tifosi del Verona accusavano Tutor, Juric, del fatto che nella seconda parte di stagione ha sempre avuto un calo, ma qui il limite dell'allenatore, io considero Juric un grande allenatore, però, per fare il salto deve cambiare, deve fare un download del bios del suo cervello calcistico, deve migliorare, altrimenti rimarrà sempre nei bassi fondi, rimarrà sempre un potenziale, ottimo allenatore, ma con limiti estremi, veramente allucinanti. Ovviamente, questa è una mia analisi, mi raccomando, tifosi del Torino e non, anche avanti calcio, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, in tal caso, se il video vi è piaciuto, vi è stato utile, per qualche spunto di riflessione, mi raccomando, ci vedete di like il video, iscrivetevi al canale, ti vado a campione di notifici, per esempio, se non è già su un'inizio del canale. vi facciamo un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!